buona sera pronto pronto buonasera si buonasera senta vuole avere alcune informazioni è possibile si mi dica si allora semplicemente vorrei sapere se per il 20 per il 20 pronto pronto non lo sento pronto pronto mi sento adesso si ecco 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 senta un'informazione per il 22 giugno si disponibilità di una doppia è possibile sì se l'abbiamo sì sì perfetto quanto è il più o meno il prezzo allora le faccio lo sconto le faccio 150 con colazione compresa meglio io ne vogliamo sconto 195 prego beh dico di un sconto guardi il prezzo normale viene 195 euro perché a me mi fa lo sconto perché le faccio lo sconto perché faccio lo sconto perché ho un signor ho poche prenotazioni ecco perché non ho capito perché perché ho poche prenotazioni quindi le faccio lo sconto va bene si beh oddio non è che me ne voglia approfittare ha capito tutto qua posso pagare 195 prego posso pagare 195 prezzo pieno se vuole si non è problema ne do anche la suite se ce lo libero un attimo che verifico ok grazie ce l'ho sì alla suite si magnifico com'è fatta la suite la suite è una stanza più grande con un bel terrazzo diciamo un po una camera un po particolare ecco diciamo è molto più grande delle altre normali vista male è carina ho capito il 22 giugno prego 22 giugno ho capito beh direi che si può fare diciamo l'è stato gentilissimo però la ringrazio che mi è caduto di tutto qua a casa la ringrazio sistema e la richiamo va benissimo grazie a vedere la buonasera buonasera